E la pagina della Serie C la chiudiamo con il Bari che a Pagani ha ottenuto la terza vittoria di file in campionato e non prende gol da oltre 270 minuti. Tutte ottime notizie alle quali fa da contraltare però una novità che arriva dall'infermeria perché come comunica la stessa società bianco-rossa c'è il risultato dei esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicola Citro che era uscito per infortunio al ventunesimo del primo tempo contro la Paganese e allora lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami. Citro rientrerà nel 2021 quindi non ci saranno le tre partite contro Vibonese, Avellino e Palermo da valutare in maniera ovviamente precisa i tempi di recupero. Spiega il Bari che il calciatore però ha già iniziato il programma personalizzato di recupero e verrà sottoposto a controlli periodici per appunto valutare al meglio le tempistiche di rientro.